We Want Radio La radio più arancione del web Perché saremo e saremo no Preparatevi a vivere una 5 giorni tutta in diretta sulle frequenze web di We Want Radio per seguire insieme la 65esima edizione del Festival di Sanremo Da martedì 9 a sabato 14 a partire dalle 21 3 ore da vivere insieme per commentare tutto quello che succederà dentro e fuori il Teatro Ariston Rubriche, ospiti, interviste e commenti in diretta dei nostri inviati nella sala stampa del Palafiori Abbassa il volume della televisione, alza quello del PC Con We Want Radio anche il Festival diventa arancione